Buongiorno amici siamo all'indomani della pesante sconfitta di Cagliari per la Roma il 26 aprile lunedì 2021 faccio questo video non per gettare la croce addosso a questi ragazzi il giorno dopo ripeto la decima sconfitta patita solamente per quanto riguarda il campionato nel 2020-2021 un momento particolarmente complicato per la Roma ma pochi giorni dall'importantissima trasferta di Manchester di cui abbiamo ampiamente parlato anche nei video precedenti è chiaro che non si parla ad altro a Roma e nell'ambiente Roma è diventata importantissima la semifinale di Europa League perché sarà l'occasione di salvare una stagione e sappiamo che sul piatto c'è una posta molto alta perché vincere l'Europa League significa anche automaticamente entrare nella Champions League a fase a gironi della Champions League dell'anno prossimo quindi prospettive completamente diverse anche di calcio mercato vorrebbe dire fare una Roma forte una Roma che lotterebbe per arrivare ancora a fare le prime quattro per stabilizzarsi in Champions League l'anno scorso la Roma è uscita in semifinale di Europa League perdendo in gara unica causa Covid contro il temuto e organizzatissimo Siviglia e naturalmente rimanendo in Europa League il calcio mercato è stato quello che è stato la squadra non si è particolarmente rafforzata e infatti i risultati li abbiamo visti oggi la Roma dopo 33 turni di Serie A è settima con 3 punti soli di vantaggio da una squadra come il Sassuolo che non ha certamente il, chiamiamolo bacino d'utenza non ha certamente il sostegno di tifo che ha non certamente da oggi la Roma quindi 10 sconfitte, 7 pareggi su 33 partite non sono certamente un buon bottino abbiamo perso 3-0 il debito la Lazio non ce lo siamo certamente dimenticati nel giorno d'andata c'è ancora il debito di ritorno che se non erro sarà proprio all'ultimo turno di campionato al penultimo dove avremo occasione di rifarci siamo usciti in Coppa Italia con lo Spezia siamo molto lontani dalle prime quattro posizioni che vogliono dire la Champions League è rimasta la partita col Manchester per arrivare in finale poi giocassi la stagione contro Arsenal o Villareal io penso che l'Asenal possa riuscire a eliminare il Villareal quindi ci toccherebbe un'altra inglese che ricorderete qualche anno fa ci eliminò dalla Champions al termine di una battaglia allo Stadio Olimpico ai calci di rigore purtroppo ci eliminarono una grandissima partita la Roma era piena di problemi di formazione infortunati un giocatore adattato ai tanti ruoli giocò una grandissima partita ma purtroppo non ci fu nulla da fare perché come sapete tradizionalmente gli inglesi ci portano male e una squadra inglese a parte naturalmente il Liverpool che ci porta particolarmente male e il Manchester United che ci batte per 7 a 1 uno dei risultati peggiori della nostra storia forse il peggiore c'è stato anche un drammatico 7 a 1 di Coppa Italia contro la Fiorentina ma con una Roma che sostanzialmente non giocò quella partita non si impegnò assorbita da altri pensieri proprio come è successo ieri a Cagliari la Roma pensava alla partita col Manchester brutta figura 3 a 2 ma pessima la partita della Roma ieri a Cagliari trovate commento, informazioni e pagelle nel video precedente tra l'altro ha fatto un sacco di visite questo video invece lo voglio fare per ricordare a tutti ma non ripeto, non permette all'indice i giocatori a una curiosità giornalistica quanto guadagnano i calciatori in rosa i giocatori titolari e i serve della Roma nel 2020 e 2021 per un monte in gaggi complessivo che consiste in 112 milioni di euro e pare facile giustire una società di calcio mi ricordo che quando ero bambino dicevano ma sì ma i giocatori di calcio in fondo guadagnano poco un lavoro come un altro, guadagnano uno stipendio non girano tanti soldi nel calcio riparlo degli anni 70 primissimi anni 80, fine anni 70 e guardate un po' dove siamo arrivati a un monte in gaggi di 112 milioni di euro l'anno per arrivare ai settimi pensando in poche roba a giocarsi la conference league la cesta alla conference league con il Sassuolo che tra l'altro gioca molto meglio della Roma in questo periodo allora Edin Dzeko guadagna 7,5 milioni l'anno ma io penso che su Edin Dzeko ci sia poco da recriminare perché il giocatore ha segnato una valanga di gol il nostro giocatore più forte, più rappresentativo il capitano anche se adesso il capitano è un altro ma c'è stato uno screzzo con Fonseca ma nulla toglie questo al valore di Edin Dzeko molto più discutibile l'ingaggio del secondo giocatore più pagato della Roma che forse molti non lo sanno è Pastore, è Xavier Pastore che prende 4,5 missioni di euro l'anno per farsi qualche passeggiata ogni sei mesi in campo mostrando peraltro ancora sprazzi della sua indubbia classe io mi ricordo quando Pastore arrivò a Palermo fu preso da un presidente diciamo un po' casinaro ma che di calcio capiva veramente era Maurizio Zamparini che portò in Italia a fiordi giocatori fiordi giocatori se andate a vedere gli stranieri che ha portato Zamparini in Italia rimanete a bocca aperta uno per esempio è Ilicic l'attuale attaccante dell'Atalanta ma sono tantissimi Cavani, mi viene in mente Cavani e dice che tutti gli dicevano di questo Pastore che era fortissimo allora va al primo allenamento Zamparini di Pastore guarda l'allenamento vede Pastore e si mette a piangere perché dice che giocava talmente bene era talmente forte che non solo si mette a piangere per come giocava bene ma perché Pastore aveva veramente molta classe ma anche perché fisicamente aveva una struttura fisica che gli ricordava molto come lui era da ragazzo quindi si identificava che era la figura di Pastore un giocatore che nella Roma ha segnato tra l'altro due gol di tacco che credo sia un record bellissimi solo che non basta segnare gol di tacco bisogna anche fornire un apporto compressivo al gioco della squadra purtroppo Pastore ha avuto problemi fisici ma io sulle qualità di questo ragazzo non ho mai avuto dubbi purtroppo un fisico veramente di cristallo è andata così 4,5 milioni di euro per uno non ha mai giocato praticamente è andata così vabbè Smalling 3,8 parliamo di ingaggio anno ogni anno Mkhitaryan 3,5 Paolo Operz il discurso portiere spagnolo Paolo Operz prende 3 milioni di euro l'anno perché naturalmente nell'ingaggio dovete tener conto molto anche dell'età se è un giocatore anziano si deve accontentare di ingaggi più bassi però se è un anziano come Gego che segnava l'anghi dei golli ed è determinante eccetera l'ingaggio è ancora molto alto poi quando diventi sostanzialmente vecchio calcisticamente ti prendono e ti dicono c'è in età accontenta di un milione di euro all'anno come accade per esempio a Mirante il secondo portiere che poi andremo a esaminare Pedro 3 milioni ecco Pedro magari pensavo che guadagnasse di più Spinazzola 3 milioni Veretù 3 milioni Diavara 2,5 Diavara è un altro giocatore che secondo me prende veramente un bel ingaggio per quello che è il suo valore Fazio 2,5 Zaniolo Nicolò Zaniolo 2,5 qua è abbastanza paradossale la storia di Zaniolo che come sapete non può giocare perché è infortunato è stato tutto l'anno a cercare di recuperare questo infortunio però 2,5 milioni intanto li ha messi in cassaforte ma queste sono le regole nulla da nulla da eccepire Maioral 2,3 Pellegrini 2,3 Juan Jesus 2,2 altri giocatori abbiamo visto pochissimo Cardop 2,2 Mancini 2 Mancini sicuramente andrà verso un aumento dell'ingaggio è stato secondo me ottimo il campionato la stagione di Mancini Gianluca Mancini Carles Peres 2 Cristante 1,8 Kumbulla 1,8 e poi c'è il discusso Bruno Perez che ha giocato sempre praticamente e prende anche lui 1,8 milioni di euro e adesso capiamo perché lo vediamo sempre sorridente anche quando le cose non vanno tanto bene Roger Ibagna prende 1,5 milioni come Santon altra grande delusione fra gli acquisti degli ultimi anni Santon Mourinho ci scommetteva su Santon diceva che sarebbe diventato il capitano dell'Inter sarebbe diventato un altro Xavier Zanetti e invece niente Santon purtroppo complice alcuni infortuni una certa involuzione non è andato non è andato neanche ieri a Caglia e ho visto veramente un giocatore spento fuori dal gioco fuori dal progetto con la testa da altre parti forse alle comode vacanze di quest'estate in qualche località turistica in buona compagnia poi c'è Gonzalo Vigliara 1,2 il citato il succitato mirante portiere di notevole esperienze in Serie A prende solo un milione l'anno se me lo danno a me ci vado io a parare Calafiori il giovane Calafiori ha preso il suo primo contatto da professionista e prende ha preso prenderà quest'anno 400.000 euro di fronte a queste cifre sono robetta proprio ma che cominciano a queste cifre l'anniologo ragazzo che quando è arrivato a Roma non guadagnava certo 2,5 milioni poi con queste prestazioni con questi gol che ha fatto eccetera è arrivato già a prendere la sua età 2,5 milioni l'anno speriamo che poi ma tu stai a guardare quanto a me non me ne frega niente di quanto me ne frega a me quanto guadagna non è che io pago le bollette di casa con i soldi di Bagnes o di Pellegrini no è una nota di cronaca un contributo giornalistico informativo che molti non lo sanno che girano queste cifre nel mondo del calcio pensano si guadagneranno tanto ma 7,5 milioni l'anno 4,5 milioni l'anno sono veramente cifre che fanno notizia in una squadra ripeto che è al settimo posto speriamo che questi ragazzi possano riscattarsi vincendo per la prima volta nella nostra storia l'Europa Liga visto che sicuramente il giorno 27 credo che sia il 27 sui loro conti correnti succedono cose interessanti quindi non credo che abbiano grandi problemi nella loro vita che si dedichino con maggiore impegno quindi alle partite che affrontano perché la Roma che ho visto ieri a Cagliari non mi è veramente piaciuta per niente non mi sono anche piaciute alcune cose della gestione di Paolo Fonseca ma sono mesi che dico sempre le stesse cose quindi non le ripeto neanche più basta che andate a vedere il video precedente dove commento Cagliari Roma con tutte le pagelle prese da Roma News perché prendo sempre informazioni come avrete notato sempre da media diversi per cercare di arricchire l'informazione di renderla il più plurale possibile non essere troppo seguire troppo una linea perché sapete che ogni radio c'ha un po' una linea ogni giornale c'ha un po' la sua linea quindi ci saranno magari c'è una radio che difende a spalla tratta Fonseca se non un'altra che lo critica duramente sono queste situazioni qui anche sui giornali e così c'è per esempio un giornale come la Gazzetta dello Sport che della Roma parla sempre pochissimo è una scelta anche quella una scelta che secondo me è anche sbagliata adesso voglio vedere un po' che mercoledì si ricorderanno giovedì mattina si ricorderanno di parlare di Manchester United Roma visto che la Roma è l'unica squadra italiana che ancora ancora sta nelle coppe europee è una partita attesissima la sentiamo tantissimo veramente contiamo non i giorni ma le ore perché sicuramente anche il 7 a 1 di qualche anno fa quando il tecnico della Roma era a Spalletti ci è rimasto proprio sullo stomaco è una ferita ancora aperta per molti anni a Roma prima di fare il nome Manchester ci si pensava 3-4 volte perché è rimasto proprio sullo stomaco quella brutta serata all'Oltrafford speriamo che questa volta i romanisti i nostri giocatori ci facciano un bel regalo come già ci hanno fatto ad Amsterdam contro l'Ajax speriamo di avere un po' di fortuna ci servirà anche quella e speriamo che si possa andare ad affrontare la gara di ritorno con ancora intatte le possibilità di qualificarsi e lasciarle aperte perché questa è una sfida secondo me che sarà come quella contro il Milan del Manchester United sarà aperta fino agli ultimi minuti e speriamo quindi di poter accedere a questa prestigiosa finale europea buona serata a tutti